bella a tutti ragazzi bentornati sul nostro canale dal vostro nico gaming e innanzitutto buongiorno a tutti ragazzi per il nostro consueto appuntamento del mattino con le ultime notizie riguardanti il coronavirus in italia e nel mondo allora cominciamo subito con le notizie di oggi allora i casi totali nel nostro paese salgono a 181 228 24 114 le vittime da inizio emergenza le previsioni regionali sull'azzeramento dei contagi lombardia e marche sicuramente saranno le ultime a fine giugno a finire diciamo la curva dei contagi lazio il lazio invece dopo il 12 maggio il sud da fine aprile così almeno dicono infatti cala per la prima volta in italia il numero dei positivi al coronavirus sono infatti 108.237 20 in meno in un giorno e c'è anche il braccio di ferro sulle riaperture perché il governo vuole un avvio differenziato però mentre i governatori del nord premono per un'unica data guai a dividersi però avvertito avverte speranza il trasporto pubblico infatti uno dei nodi della fase 2 oggi ci saranno fatti l'audizione della lamorgese in commissione affari costituzionali sulle iniziative per l'emergenza intanto la app che dovrà tracciare soggetti positivi intanto fa discutere la politica per gli aggiornamenti invece conti ha detto in un post su facebook riaprire oggi il responsabile tornerebbe il contagio intanto l'informativa di conti oggi in senato e poi alla camera in vista del consiglio europeo del 23 aprile l'europa si può salvare se mostra più coraggio infatti ha detto ieri il presidente del consiglio conte secondo infatti come ho detto prima come ho detto prima ragazzi secondo l'osservatorio nazionale sulla salute l'azzeramento dei contagi nel lazio potrebbe avvenire dopo il 12 maggio nella lombardia e nelle marche a fine giugno ma questi ovviamente sono soltanto dati ipotetici diciamo intanto in america hanno registrato altri 1433 decessi in un giorno legati al coronavirus per un totale di oltre 42 mila trump intanto sospende l'immigrazione dobbiamo proteggere i posti di lavoro del nostro paese intanto la cina risposto al presidente americano trump che la che gli aveva attaccati per quanto riguarda la che le cause del coronavirus il nemico è il virus non noi risponde la cina al presidente trump alla vigilia intanto della riunione dei ministri dello sport europei spadafora gelato il mondo del calcio dicendo non do per certo né la ripresa del campionato né degli allenamenti il quattro magico per il momento diciamo questi sono stati questi sono gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda il coronavirus in italia e nel mondo per quanto riguarda i dati aggiornati i casi totali di contagio fin qui registrati sono 281.228 i decessi sono in totale 24.114 sono 62 le persone in meno in terapia intensiva e 127 in meno i ricoverati con sintomi i guariti in più sono 1822 il totale infatti è di 48.877 tamponi eseguiti su 943.000 persone questi sono inutili i numeri degli ultimi dati ovviamente aggiornati ovviamente ad oggi ovviamente come sempre ragazzi per i momenti finiamo qui l'aggiornamento sul coronavirus come sempre lasciate un like naturalmente continuate a mandare il vostro supporto continuando a seguirci iscrivendovi al canale e comunque vi volevo dire ragazzi che comunque la serie di di al dello scroll online dovrebbe tornare da oggi sul canale perché il mio amico aveva avuto qualche problema di riconnessione perciò sicuramente o comunque credo che da stasera dovreste trovare da domani dovreste trovare sul canale i nuovi gameplay di di al dello scroll online e con questo ultimo aggiornamento vi chiudo qui e naturalmente ragazzi come sempre alla prossima per un nuovo video ciao ciao